Il Comitato delle Vittime di Podere Rota ha chiesto, nero su bianco, chiarimenti in merito ai rischi per la salute delle persone esposte al CHEU. È stata infatti inviata alle autorità competenti della Regione, ASL, ARPAT e ISPRO, una richiesta ufficiale di elaborazione dati del registro dei tumori del Valdarno, di monitoraggio epidemiologico e studi di valutazione sull'incidenza di leucemie ed altre malattie potenzialmente correlate al materiale denominato appunto CHEU e i singoli siti di spandimento. Alla richiesta, fa sapere il Comitato, si aggiunge un sollecito a tutte le istituzioni che hanno il potere di intervenire affinché venga tutelata la salute dei cittadini del Valdarno e soprattutto quelli più prossimi al sito di Podere Rota. Poi il Comitato sottolinea la volontà di essere parte in causa al processo. Abbiamo presentato la richiesta di costituzione di parte civile nel processo per ricercare giustizia e verità. Ne abbiamo i requisiti, ma se non fosse accolta continueremo ad essere elemento fondamentale di controllo e denuncia di eventuali abusi o irregolarità che possano mettere a rischio la salute dell'ambiente e dei cittadini. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 7 giugno. In quella data il giudice dovrà decidere sulle richieste di costituzione di parte civile, oltre 60 quelle già presentate, tra cui Regione Toscana, numerosi comuni, associazioni ambientaliste, ma anche i gruppi o singoli cittadini.